Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Malone Glacé e qui c'è il Pitbull Tyson che sta rosicchiando un osso di bue. È marrone, Tyson, non l'osso, ed è striato begiolino. È lo stesso Pitbull che aveva partecipato al video Pitbull vs Lipocecoslovacco che aveva attirato oltre 280.000 visualizzazioni. Aurora conta così. Vi ringrazio davvero anche per i 181 iscritti, stiamo salendo davvero molto. E a 200 porterò uno speciale, non so di che cosa si tratta. Come potete vedere sta rosicchiando l'osso, ormai ha 3 anni e mezzo, ed è sul tappeto della porta di casa, cioè fuori. Se vi piace il video lascia like, commenta e iscriviti al canale e condividi. Ciao e alla prossima e passa a dare un'occhiata anche agli altri. Grazie. 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 Grazie.